Eh no ragazzi, c'è poco da fare, Verstappen è superiore, guida un'astronave ragazzi Però bisogna fargli anche i complimenti perché al contrario di Perez lui riesce a vincere invece Perez con la stessa macchina che è un'astronave Ripeto, rispetto alle altre non riesce neanche ad andare in Q3 Altro che mondiale, se Perez continua così è già tanto se riesce ad arrivare secondo nella classifica costruttori Poi anche suo papà e loro è inutile che dicono noi non è giusto che non possiamo competere e quando arriva Verstappen mi devo spostare E' inutile perché se questi sono i risultati, cioè è inutile pensare che ti lasciano provare a impensierire Verstappen perché non ci riesci minimamente Allora, parliamo un attimo della Ferrari, sono contento perché la Ferrari ha portato dei nuovi sviluppi Ragazzi, come sempre c'è qualcosa che non quadra perché sinceramente Sainz che tra l'altro in casa ha fatto benissimo Prenderà la prima fila a fianco di Verstappen ovviamente per secondo Invece Leclerc non si sa bene il problema ma deve aver avuto un problema perché se no non è possibile che arrivi diciannovesimo Cioè ormai a me viene da ridere per non piangere a ogni gara c'è qualcosa che non va qua Cioè è impressionante ragazzi, è impressionante Poi ritornando alla pista, è una pista sicuramente interessante anche perché hanno tolto le due S nelle due curve finale Ovvero hanno fatto una curva unica che ha velocizzato la pista C'era un tempo un po' intrigante perché c'erano delle curve leggermente bagnate Quindi questo diciamo non hanno favorito i piloti Tranne quelli della McLaren che stranamente si trovavano benissimo in queste condizioni Io sono sicuro che si riprenderanno però non voglio dire che già da domani se il tempo è diverso Faranno una prestazione sicuramente inferiore a quella fatta in queste qualifiche quest'oggi Perché li ho visti proprio bene ragazzi Cosa che secondo me non continueranno a fare prossimamente Dopo ho visto invece un'ottima Alpine Che come a Monaco sta facendo bene, sta migliorando Si stanno vedendo i frutti e quindi complimenti a loro Poi abbiamo visto non Magnussen ma il suo compagno Hulkenberg Che l'ha portato addirittura in Q3 Quindi bisogna fargli i complimenti E la AS comunque ci ha dimostrato che in qualche gara anche l'anno scorso andava in Q3 Dopo però il problema è sempre la gara Il problema della gara è sempre anche della Ferrari Che quindi se noi in qualifica facciamo così Figuratevi in gara Invece Verstappen ragazzi Soprattutto la Red Bull Diciamo in teoria Cerca di far meglio Essere più competitiva In gara Ovvero quando ci sono tanti giri Piuttosto che nelle qualifiche Perché nelle qualifiche in teoria fa un po' più fatica Perché non riesce bene a scaldare le gomme A tenerle in temperatura Poi se questo ragazzi è il problema della Red Bull E domina lo stesso Figuratevi voi se non avessero questo problema C'è sarebbe proprio una macchina illegale Quindi domani già io mi aspetto Verstappen che parte e scappa Poi purtroppo Russell poteva andare in Q3 Ma non c'è andato perché Hamilton lo ha danneggiato Perché doveva superare Sainz Ma allargandosi non ha visto che stava passando Anche il suo compagno di scuderia E quindi lo ha preso E probabilmente è proprio per quei piccoli danni Che non è riuscito ad andare in Q3 Mercedes che comunque noi la vediamo un po' Sempre che fa fatica in qualifica Dopo in gara però va sempre meglio della Ferrari Quindi non vi preoccupate che anche domani Vedremo Sainz che retrocederà E la Mercedes uno dei due che andrà più avanti 100% ragazzi E quindi vi ricordate Quell'anno da mi ha ricordato Rosberg e Hamilton nel 2016 Quindi che si buttavano fuori a vicenda Non l'hanno fatto però E' un aneddoto ragazzi Che mi veniva da ricordare Per noi amanti della Formula 1 E tifosi della Ferrari soprattutto Perché quando abbiamo goduto quella volta Anche se dopo il mondiale Non era nelle nostre corde In quell'anno Comunque è come nella maggior parte degli anni Insomma dal 2007 Cioè vi rendete conto Vabbè tantissimi anni Poi bisogna fare i complimenti Anche a Piastri Che ha fatto una buona qualifica E strollo comunque Nelle aspettative Invece mi ha deluso L'altro dell'Aston Martin Ovvero Alonso Che non riusciva a guidare bene Perché spesso andava troppo largo E quindi non riusciva a sfruttare bene la pista Secondo me aveva qualche problemino Oppure non era in giornata E partirà Nono Che da lui Che anche lui è spagnolo Mi aspettavo qualcosina in più Sicuramente in gara farà meglio Me lo auguro Anche per rendere la gara un po' più interessante Vedremo Però mi ha un po' deluso Speriamo ragazzi Di escano a sistemare il problema di Leclerc Prima devono riuscire a capire Dove era questo problema Perché una volta sistemato Dopo deve fare una rimonta Perché altrimenti Di questo passo ragazzi Cioè Se già queste sono le aspettative di partenza Allora Capite bene che Tanto lontano Non andiamo Ci siamo divertiti Anche perché Come Non dico come il Gran Premio di Monaco Ma comunque Le vetture Giravano Giravano Tutte con dei tempi Piuttosto simili A parte Verstappen Che Secondo me ne aveva anche di più Ed era di un altro pianeta Come sempre Poi tutte le altre Soprattutto quelle che lottano Per la zona Punti Sono tutti La che Vicini vicini E quindi Diciamo Questo È bellissimo da vedere È uno spettacolo E sono sicuro Che comunque domani Ci divertiremo Speriamo Che le Claire Riesca a recuperare E non dico che Science Deve vincere Anzi Io vi dico già la mia Ragazzi Speriamo In un polio di Science Che Ragazzi Fidatevi di me È già Tanto Cosa vi dicevo io Signori Cosa vi dicevo Ragazzi Ormai Non so più che dire Ormai Bisogna ridere Per non piangere Proprio perché Per l'ennesima volta La Mercedes Finisce davanti Al Ferrari Allora C'è Un problema Che non mi quadra Perché Noi avevamo fatto Degli sviluppi Anche la Mercedes Ma La Mercedes Sviluppa E si vedono I risultati Invece noi Ogni volta Ragazzi Si dice che La Ferrari Applica Delle migliorie Eccetera Eccetera Ma non si vede Mai niente Anzi Peggioriamo quasi Non voglio dire così Ma Se stai Vedendo che Non funzionano Quei miglioramenti Cambia Fai qualcos'altro Vediamo Ma A quanto sembra Qua Ogni miglioramento Che noi Diciamo di fare Non dà Nessun frutto Quindi O facciamo finta E in realtà Non li facciamo O sbagliamo sempre E ha capito io Che dall'errore Si impara Ma non sempre Perché una volta Puoi sbagliare Due Ma la terza È già troppa Secondo me Cioè Noi qua Siamo La Ferrari Una scuderia Che dovrebbe puntare Al podio E invece no E invece noi ragazzi Facciamo delle prestazioni Indecenti Sempre Sempre Leclerc ha provato A rimontare Ma neanche Neanche a zona punti È andato Cioè Appena fuori Ragazzi Perché Perché non riusciva Negli ultimi giri A superare Gasly Come Su rettilineo E che aveva il DRS E oltre alla scia Aveva anche il DRS Attivo Quindi Ma dico io Abbiamo dei problemi seri Ma noi non dovevamo Essere la vettura Dopo la Red Bull Con una maggiore Velocità di punta A me questo Sinceramente Non risulta Neanche più Cioè Ma non so ragazzi Io Non ho più parole La McLaren Abbiamo visto che Come vi dicevo Era solo un caso Perché si trovava bene In quelle condizioni Adesso Ritorna giù Di nuovo L'Alpini Invece È abbastanza costante E sta migliorando Costantemente Poi abbiamo visto Un Red Bull Come sempre Dominante Però anche la Vedete No E Verstappen Domina E può fare quello che vuole Anche Tra l'altro Ha fatto anche il giro veloce E quest'anno Vincerà il mondiale Per l'ennesima volta Perché Perez Non è minimamente All'altezza Di stargli dietro E l'abbiamo anche visto Perez È partito dopo Russell No scusatemi È partito prima di Russell E alla fine È arrivato dopo Perez è arrivato È quarto Invece Russell Terzo Quindi anche là Vedete No Verstappen guida Un'astronave Ma bisogna ammettere Che è superiore È più forte Di Perez E comunque È un super pilota Invece Purtroppo ragazzi La Mercedes È migliorata tantissimo E mi stupisce Perché entrambi I due piloti Nel podio E ha fatto Con Russell Una bella rimonta E con Hamilton Ragazzi Che vi posso dire Intanto strategie bellissime E La vediamo Comunque La bravura di Hamilton Che dice Qua la macchina Non va bene Voi Ascoltatemi Applicate le modifiche Nella direzione Che vi dico io E dopo Vediamo i risultati Hanno fatto Come la richiesta Di Hamilton E questi sono i risultati La vettura Sta migliorando E se continuano così Può darsi Che riescono a prendere Anche la Red Bull Per fine stagione Ovviamente Questo mondiale Ormai è andato Anche per Perché Non riusciranno mai A migliorare così tanto Da superare Anche la Red Bull In quest'anno Però Capite bene Che gli unici Che non si muovono Siamo ancora noi Una Ferrari Quindi C'è un problema Di fondo qua Prossimo anno Vedremo forse Una Mercedes Competitiva Contro La Red Bull E noi Sempre indietro E vabbè ragazzi Comunque Bisogna fare i complimenti Anche ai Costruttori Quindi tutti i meccanici Della Red Bull Perché Chapeau Quando fai una vettura Così Competitiva E anche i meccanici Nei pitstop Sono così rapidi Veloci Anche quando Se la prendono Con comoda Perché tanto Verstappen Stava dominando 2,6 secondi E quindi Cioè Se quella È Fare un pitstop Con calma Chapeau Per loro Che dire ragazzi Abbiamo visto Un'altra scuderia Che un po' Mi ha deluso Che è stata l'Alpine Mi aspettavo qualcosina In più In questo gran premio Potrebbe anche essere Che in fine della stagione Cresce la McLaren E l'Aston Martin Invece no Però state tranquilli Che resterà comunque Davanti alla Ferrari Perché noi chissà quante Ne combineremo da qua Alla fine di questo mondiale Comunque Alonso Appena dietro Al suo compagno Al suo compagno Astrol Ma alla fine Diciamo che Qua in Spagna Per Alonso È stato un gran premio Un po' difficile Ha avuto difficoltà Soprattutto In qualifica Anche in gara Ma Si stava riprendendo Verso L'ultima parte Del gran premio E Fatto sta che Aveva anche raggiunto Astrol Aveva secondo me La velocità E il tempo Per superarlo E per stare davanti Ma ha preferito stargli dietro Astrol Quindi secondo me Ha detto Sta dietro Intanto mi faccio Sempre più amico Della famiglia Astrol Che tra l'altro È il capo E quindi Poi magari Ci guadagna qualcosa In futuro E Tanto non è che ha perso Molto Diciamolo E Poi Vabbè La Williams Poi L'Alfa Tauri E Dopo anche L'Alfa Romeo E la Haas Ragazzi Più di tanto Cosa volete che vi dico Sono purtroppo Quelle scuderie Che resteranno sempre Nelle retrovie Purtroppo ragazzi Comunque Mi piace Il fatto che In questa stagione Vediamo che Sia Tra i primi E gli ultimi Comunque Non c'è un distacco Abissale Comunque Si verstappi Doppia Persino Leclerc Almeno L'abbiamo visto In questa gara Però Diciamo che Normalmente Ecco Abbiamo visto In passato Dei Tempi Più ampi Tra il primo E l'ultimo Quindi Tutto sommato Mi piace Qualche sorpasso Lo vediamo Quindi Nel complesso Siamo abbastanza Contenti Contenti Invece Quando si parla Di ferrare È impossibile Eserlo Perché Non va bene Ragazzi Poi Noi abbiamo Sempre quel problema Che Nelle qualifiche In teoria Facciamo meglio E anche Abbiamo difficoltà Perché Si è visto Anche ieri Comunque Andiamo Andiamo avanti Perché Sennò qua Allora Poi Abbiamo il problema Delle gomme Perché Non riusciamo mai A farle durare Tanto Come la Red Bull Come la Mercedes E questo è un altro Problema grave Perché È proprio Questo che ci manca E dopo Le migliorie Che sembrano Arrivare Eccetera eccetera Ma Purtroppo Non miglioriamo mai Quindi Questo è un altro Punto fondamentale E secondo me C'è molto da cambiare Vedremo sempre Una Ferrari Mediocre Che Altro che Lottare Per il Mondiale Ma Neanche per il Podio Lontanamente Detto questo ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Purtroppo Unesima Delusione Da parte Della Ferrari Ma già si sapeva Molti che mi vengono A dire Ma cosa dici Intanto avete visto I risultati Parlano chiaro Avevo ragione Non perché Voglio necessariamente Avercela Ma purtroppo E così E ripeto Come ho detto Anche negli scorsi video Mi piacerebbe Sbagliarmi ogni tanto Ma ormai Ti giochi la schedina La Ferrari Fa sempre peggio E vedrai Che diventerai Milionario Ecco Questo è il succo Nella Nel video Il succo Di Della Stagione Delle stagioni Della Ferrari Anzi E dal 2007 in quadro Mi verrebbe da dire Comunque Ragazzi Io vi saluto Vi ringrazio In altre schede video precedenti Sotto in descrizione Link per seguirmi su Instagram Degli altri miei due canali YouTube E di Twitch E se volete lasciate un mi piace Se volete condividete il video Iscrivetevi al canale Mi raccomando Per non parvi tutti i miei prossimi video E attivate la campanellina E Ditemi voi sotto nei commenti Che ne pensate Di questo gran premio Arrivederci Da Macaco Non è tutto E sempre forza Ferrari